musica 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 sono i suoni da ninda esatto satapam paparapapapam vado a mettere una world va il tuo luogo siamo venuti paparapapapapapapapapapapo non picchia temi non picchia temi io sono simpatico perchè devi farti menare me lo spieghi? tu non … non ti preoccupare ma invece mi preoccupa tantissimo nooo, chegassuno su suoni ahah! mmmm.. adesso muori 1 2 3 stella cosa stai facendo cosa stai facendo non ti è dato saperlo muoio sei un nabbo ci torniamo a farti lo so ma perché io sono sempre a un livello superiore che v'ho detto che sei un pokemon esattamente mera ci hai provato a fotermelo certo che ci ho provato però siamo due pippe colossali tu sei una pippa colossale io sono soltanto un po pippa perché è già la bf lui perché lui è già la bf non è giusto non è corretto nei confronti di chi ci ascolta perché ha il doppio della mia farm perché è il doppio della tua farm perché io non ho la bf una cosa circolare questo non va bene che mi continui a fottere il cazzo di minion perché voi siete lì a tutti a combattere io sono qui invece questa è una bella domanda perché noi siamo lì a combattere tu sei lì perché nessuno mi ha guidato è presente la mini mappa sai cosa serve ma a mancare stuberatamente gli avversari a venerci come un pollo non è colpa mia certo sì che è colpa mia però però non vado a pesare così tanto non perché ci andate dentro perché tanto abbiamo vinto quando un team è forte è forte non sente l'affare non 감사are non non a Grazie a tutti.